Grazie a tutti. E in tutta questa serata noi abbiamo visto in tutto 6 deputati su 800 deputati del Parlamento europeo. Non vi dice quanto sono potenti gli Stati Uniti da impedire alla stampa europea di essere presente a una iniziativa come questa? Come sono potenti gli Stati Uniti da poter impedire alla gran parte dei rappresentanti dell'Europa di venire a guardare, non a condividere, a guardare questo film. Il sistema dell'informazione è interamente controllato dagli Stati Uniti, interamente controllato. E se noi siamo qui, qui noi questa sera è perché loro hanno il dominio. Non si può sottovalutare gli Stati Uniti, non si può sottovalutare gli Stati Uniti e la loro potenza attuale. Non esisterebbe l'11 di settembre, non esisterebbe la guerra in Afghanistan, non sarebbe esistita la guerra in Iraq se gli Stati Uniti non fossero tremendamente potenti. E quindi io mi limito a fare questa considerazione. Sono forti, non sono deboli, sono potenti, perché non c'è un solo politico in Europa che può prescindere nel suo comportamento dalle decisioni dell'Amministrazione degli Stati Uniti da me. Questa è la mia risposta.